Per farti vedere che non dico cavolate che compro veramente i tre mesi sulla piattaforma di Gamsgo Netflix fino a 4k con profili condivisi e così facendo Gamsgo ci dirà quale profilo cliccare, tutto in descrizione, il link e anche il codice promozionale da inserire per comprare e ricevere anche un 5% di sconto sul servizio. Come puoi vedere compro così Netflix, compro questi tre mesi fino a 4k, la piattaforma Gamsgo ti offre veramente tantissimi vantaggi come Spotify, Disney+, Netflix, ChatGPT e altre piattaforme per ascoltare musica e guardare altri servizi. Come puoi vedere compro così Netflix, aggiungo così la mia carta di credito, compro, vado direttamente sui miei abbonamenti ed ecco qua il mio Netflix di 90 giorni e così facendo nell'abbonamento, come puoi vedere nell'abbonamento, io ho l'email e la password. Quindi adesso cosa ne faccio di questa email, di questa password? Vado direttamente su Netflix, inserisco così l'email e la password, entro così nell'account e ci sono questi 5 profili. Quindi quale di questi profili devo cliccare? È il secondo, a me è il secondo perché Gamsgo mi ha detto che devo cliccare il secondo. Entro e mi godo Netflix ed eccolo qua, Netflix fino a 4k per 3 mesi, ovviamente soddisfatti o rimborsati, quindi se non ti piace il servizio puoi sempre ricevere il tuo rimborso. Il servizio è aperto 24 ore su 24, quindi il supporto è 24 ore su 24, quindi in questo caso il link che ti ho lasciato in descrizione ti portare su questa pagina, qui c'è la persona qua, devi cliccare sopra e farti un account, quindi accedi con un account qualsiasi. Io per esempio vado ad accedere con un account Google, accedo così con il mio account Google, vado direttamente sui miei abbonamenti ed ecco qua i miei abbonamenti. Questi sono gli abbonamenti scaduti e questo qua invece è l'abbonamento che ho comprato. Come puoi vedere questa è l'email e questa è la parola d'ordine, ci clicchi sopra e vedi la parola d'ordine e così facendo la metti sulla piattaforma Netflix e entri così nell'account, ok? Quindi per altri problemi ancora puoi sempre andare su Gams Go e vedere tutto qua, ok? Ovviamente se tu clicchi così il mio link riceverai 10 giorni in più sulla piattaforma, quindi ti regalano 10 giorni in più, ok? Quindi come puoi vedere questi sono gli ultimi ordini che sono riusciti a vedere, quindi l'ultimo risale a oggi 14 giugno, questi sono gli utenti che hanno comprato YouTube, Netflix come puoi vedere Netflix 4K, Disney Plus e un altro Netflix 4K. Quindi in questo caso grazie a tutti per questa visione, quindi grazie a tutti, iscriviti, lascia like per altri problemi, commenta oppure entra nel mio server Discord oppure scrivimi direttamente su Instagram. Quindi grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!